buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv con la quale iniziamo le nostre trasmissioni della giornata dando un'occhiata ai giornali come sempre però prima passiamo attraverso l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi eccolo il santo e san pietro crisologo visse nel quinto secolo nacque a imola e poi divenne vescovo di ravenna fu un grande oratore ecco perché lo chiamano crisologo che vuol dire parola d'oro fu anche un grande scrittore fu proclamato dottore della chiesa e combatte in modo particolare l'eresia eutichiana che confondeva in una sola le due distinte nature umana e divina di gesù e che fu condannata poi nel concilio di calcedonia quindi un grande santo un grande predicatore un uomo di cultura che pose le fondamenta contribuì a porre le fondamenta appunto della dottrina cattolica questo è san pietro crisologo vediamo ora le previsioni del tempo ecco la grafica su tutta la regione marche un campo di alta pressione abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato dovunque le temperature sono sempre alte 21 la minima 30 33 la massima i venti sulle coste espireranno con una tensione media da est e sud est nell'entroterra da nord est il mare leggermente mosso il sole è sorto alle 5 52 tramonterà alle 20 e 35 abbiamo la prima pagina del corriere adriatico questa mattina sulla nostra scrivania sulla pagina di fano e vediamo quello che si prospetta oggi sul tardo pomeriggio in consiglio comunale quando è stata convocata la terza riunione della civica sese di questa seconda di questa mandata amministrativa della giunta ser filippi ebbene si parla di sanità si è parlato di sanità anche nella seduta precedente oggi si continua perché sono state è stato presentato un ordine del giorno del partito democratico in merito alla riduzione dell'attività delle camere operatorie siamo in estate lo sappiamo anche i medici devono andare in ferie però vediamo che l'assistenza sanitaria già precaria se viene ridotta ancora crea un maggiore disservizio nei confronti di tutta l'utenza allora al santa croce chiuse le sale operatorie questo è un problema di salute pubblica c'è un documento delle opposizioni sottoscritto anche dal direttore della brest unit che è cesare magalotti che è presente in consiglio comunale quale esponente del partito democratico contraddetto il direttore generale dell'aste numero 1 carelli allora c'è un allarme c'è un allarme un allarme sanità per quanto riguarda in modo particolare l'attività della brest unit questo sistema di interventi molto e molto importante perché si occupa della rimozione del cancro al seno delle donne la sanità della provincia in particolare del santa croce è veramente nel caos segnala un ordine del giorno urgente fornito dalle opposizioni la mancanza di medici anestesisti e la chiusura delle sale operatorie stanno portando ad una sensibile riduzione delle operazioni al seno e questo ovviamente non può essere perché le esigenze sono tante e le donne non possono aspettare intervenire in tempo intervenire con celerità significa veramente poi da questo dipende la guarigione dipende la soluzione positiva del problema il documento sarà discusso nel consiglio comunale di oggi che è convocato alle 18 e 30 presentato dai gruppi partito democratico fanno crescere in comune e la fanno che vogliamo e merita una particolare attenzione perché appunto tra i sottoscrittori c'è un tecnico uno che veramente a parte il fatto che si intende ma uno che esercita tutti i giorni la sua professione quindi conosce i problemi a fondo per quanto riguarda l'assistenza sanitaria ebbene sarà una seduta interessante da vagliare se volete potete seguirla in internet cliccando il sito del comune e digitando consiglio comunale online vi appare la schermata e potete seguire tranquillamente tutta la seduta dall'inizio fino alla fine nel vostro computer veniamo alla cronaca solo alla e padrone vieni fuori che ti mangio questa è una delle espressioni usate da un cliente di un ristorante di un ristorante fanese che giovedì 11 luglio intorno alle 14 e 30 si è rifiutato di pagare la sua consumazione era presente in questo ristorante adesso non viene definito il nome del ristorante la posizione insomma non si sa un ristorante fanese un ristorante fanese era lì con un collega ed una donna hanno consumato e poi si sono rifiutati di pagare il conto allora il titolare con tutta la pazienza ha cercato di così di ottenere quanto dovuto ma destino ha voluto che accanto al tavolo dove siedevano appunto questi extra comunitari c'era un agente della polizia in borghese era fuori servizio allora la lite stava degenerando quando appunto l'agente è intervenuto ed è stato così però apostrofato con male parole anche lui da queste persone che evidentemente erano su di giri ma alla fine queste ultime sono state identificate nonostante che si siano rifiutate di declinare le loro generalità con la scusa di non avere documenti al seguito avendo capito che era stato allertato anche il 112 i due uomini dopo aver spintonato il poliziotto sono scappati mentre la donna compagna del faccino roso è stata bloccata poi grazie agli accertamenti successivi gli agenti sono risaliti all'identità e i due sono stati denunciati veniamo ora alla seconda apertura del Corriere Adriatico dedicata al parco del campo d'aviazione e dalla pista di Pump Track che desolazione al campo d'aviazione doveva essere il parco più bello di Fano il parco urbano da anni si è tentato di realizzare questo progetto che era un polmone verde a servizio della città il destino ha voluto che ci fossero tanti tanti ostacoli alla realizzazione dei lavori tanto che l'amministrazione comunale è stata costretta quella vecchia, l'aggiunta vecchia a disdire il contratto con la dita che stava eseguendo i lavori per i ritardi che questa aveva osservato nel eseguirli e a questo punto per quanto riguarda il parco bisognerà rifare una gara d'appalto individuare una nuova dita e questo spetterà alla giunta a Ser Filippi e poi i problemi anche per quanto riguarda la pista di Pump Track che doveva essere già in esercizio in questa estate invece i lavori sono stati sospesi perché sono state trovate tra la terra che doveva servire per utilizzare la forma della pista per realizzare la forma della pista di Pump Track delle macerie delle macerie pertinenti alle vecchie palazzine che esistevano durante il secondo conflitto mondiale e quindi anche qui ci è dovuta approvare una perizia di variante aumentare l'investimento di oltre 50.000 euro cosa che è stata fatta ed ora speriamo che la ditta riprenda più presto i lavori in modo da realizzare almeno questa parte del parco dell'aeroporto che al momento è allo stato selvaggio squadre di giovani hanno curato l'arredo della città significativo il risultato del progetto ci sto a fare fatica un progetto che ha coinvolto i giovani che ha coinvolto i giovani prelevandovi dalla noia insomma li hanno motivati a realizzare opere di interesse pubblico con un piccolo compenso ebbene molti ragazzi e ragazze dai 14 ai 21 anni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 per 5 settimane con i loro tutor si sono impegnati a realizzare divisi in squadre tanti tanti progetti vediamo a che cosa hanno collaborato i progetti hanno incluso il progetto Rocca Malatestiana e Giardini Biancheria l'assistemazione dei giardini e l'allestimento della platea per i venti nella Rocca Malatestiana che è diventato uno dei teatri più belli e frequentati della città poi c'è stato il progetto Scuola Torricelli trasloco dell'archivio scolastico il progetto Rotatoria di Sant'Orso con la ricoloritura della rotatoria e la tinteggiatura dei cancelli della strada scolastica montesi il progetto Parco Bambini del Mondo a Bellocchi un trattamento protettivo e decorazione delle panchine il progetto Codma trattamento protettivo e tinteggiatura dei cancelli dell'area del Codma insomma sono ragazzi che hanno preso pennelli che hanno preso attrezzi per realizzare queste cose che altrimenti erano segni di degrado quindi facciamo un omaggio a questi ragazzi vediamo un appuntamento per questa sera che si terrà nell'ex chiesa di San Francesco a Fano ultimo appuntamento del pop festival dell'orchestra sinfonica Rossini l'orchestra Rossini scopre l'anima rock del barocco ci sarà un concerto questa sera a San Francesco con due violinisti solisti sono Henry Domenico Durante e Francesco Pellegrini che si esibiranno insieme all'orchestra in un concerto di musica tra il barocco e il rock si chiama Barocco questo è un po' la sintesi dei due termini e sarà l'ultima performance dell'orchestra per quanto riguarda il Symphony Pop Festival 2024 ed ora passiamo a Fossombrone passiamo a Fossombrone dove c'è una alleanza tra quattro comuni per rendere più efficace per rendere più disponibili e più produttivi i soldi che le amministrazioni comunali possono disporre per realizzare opere di interesse pubblico allo scopo di riorganizzare il settore tributi trascurato da tempo il comune di Fossombrone si è associato con quelli di Cartoceto Cogli al Metauro e Isola del Piano per ottimizzare le scarse risorse disponibili allora che cosa è accaduto? è accaduto che insomma l'Unione fa la forza l'Unione fa la forza e ci sono dati dei provvedimenti che cercheranno di attribuire un pochino più risorse alle amministrazioni comunali un'iniziativa in questo senso è l'attività di accertamento che si potrà condurre per quanto riguarda l'Imu e si conta di incassare 750 mila euro dalla evasione quindi attenzione chi magari per distrazione o chi insomma perché non ha voluto può derogare dalla normativa ora ci saranno accertamenti in atto e allora si dovrà pagare e poi ci saranno altre innovazioni relative al settore dei tributi queste riguardano la volontà di creare ambienti di lavoro e di ricevimento dei cittadini più funzionali l'accoglienza dei cittadini viene garantita da un'apertura dello sportello il lunedì, giovedì e venerdì dove almeno uno è presente il capo settore la cui esperienza e competenza è essenziale per comporre situazioni abbastanza delicate e poi in tema di tassa rifiuti essendo necessario un aggiornamento delle banche date delle imprese sono state inviate delle richieste alle imprese stesse di confermare o apportare delle variazioni alle dichiarazioni che a suo tempo sono state presentate vediamo terre roveresche il titolo di apertura riguarda uno storico consigliere comunale Luciano Barbetta il quale questa volta si dissocia dalla maggioranza Barbetta vota contro in consiglio il sindaco volevi fare l'assessore? no, dice Barbetta sono stanco di votare a scatola chiusa i provvedimenti della giunta prima di votarli voglio capirli voglio studiarli meglio e quindi voglio esprimere un voto più consapevole questo appunto è l'atteggiamento del consigliere ora istituiamo il presidente del consiglio è una delle iniziative assunte dal sindaco di San Costanzo Carbone che nel consiglio comunale di oggi la seduta è convocata alle 18.30 proporrà diverse iniziative allora diamo un'occhiata a queste si discuterà di un intervento che riguarda l'edificio l'edificio adibito ad ambulatorio in Viale della Libertà sono 8.296 euro con i quali saranno sostituite tutte le grondaie che sono ammalorate che sono in pessimo stato il secondo punto riguarda una modifica statutaria che è quella della istituzione del presidente del consiglio comunale e anche questo è una delle prerogative appunto dell'amministrazione comunale stessa Senigallia ancora ordine pubblico lungomare allarme rosso un'altra rissa tra giovani tra cui c'era anche un minorenne i giovani sono stati denificati la polizia interviene e riporta la calma una task force nei weekend stabilimenti osservati speciali perché poi anche negli stabilimenti balneari accadono certe situazioni comunque quella che rileva il Corriere questa mattina è una nuova rissa che è scoppiata tra ragazzini sabato notte sul lungomare Alighieri ebbene un tempestivo intervento della polizia ha permesso di riportare la calma e di identificare alcuni ragazzi un minorenne è stato trovato ubriaco insomma ci sono queste intemperanze in modo particolare verso il fine settimana che purtroppo poi possono anche confluire in episodi eclatanti e purtroppo oggi dobbiamo rilevare dei lutti che sono accaduti in mare ha un malore in mare muore davanti al figlio è un 73enne che è annegato faceva il bagno insieme al suo bambino non il suo figlio non c'è stato nulla da fare purtroppo è uno iesino di 73 anni la vittima è Doriano Duca era andato al mare come era solito fare da anni con la famiglia ma nel primo pomeriggio di ieri è entrato in acqua per fare il bagno purtroppo a un certo punto non si è più visto perché è caduto in acqua e poi forse colto da un malore e qui è affogato e poi dobbiamo riferire di un altro lutto è quello che evidenziano i giornali noi lo prendiamo dal resto del Carlino a Sottomonte muore un ragazzo di 17 anni un ragazzino scompare tra le onde ritrovato sulla riva senza vita l'allarme dato dagli amici del giovane straniero che stavano facendo il bagno con lui era venuto al mare a Pesaro da Urbino dove era ospite di una struttura di assistenza vani soccorsi dal bagnino del 118 perché quando è caduto in acqua quando ha perduto ai sensi nessuno se n'ha accorto poi lo si è visto galleggiare sul pelo dell'acqua non si sa quanto tempo dopo ma purtroppo per lui non c'era più nulla da fare e quando muore un ragazzo di 17 anni veramente è una tragedia devastante sia per coloro che lo conoscevano sia per tutti coloro che erano in spiaggia in quel momento quando si è verificata la tragedia un altro incidente si lussa alla spalla mentre fa il bagno soccorso da Nemo doppio intervento in spiaggia ieri per l'equipaggio della Nemo Salvataggi la prima richiesta di aiuto è arrivata intorno alle 15.20 nei bagni di Gabice Mare ebbene lì c'è stata un bagnante che per un malore ha dovuto un malore forse dovuto a una congestione ha dovuto essere soccorso e poi altri episodi che vengono rievocati appunto in questo articolo vediamo anche qui la pagina di Fano sul resto del Carlilo dove anche qui si parla di sanità e dei temi che verranno discussi nel Consiglio Comunale di oggi pomeriggio a Fano e poi un incidente la investono sulle strisce pedonali portata a Torretti nell'ambulanza è una donna una 39enne che stava camminando stava attraversando la strada su Viale Piceno la donna è stata travolta da un'auto mentre attraversava è stata dichiarata in codice rosso ma è rimasta sempre vigile è stata prima sbalzata sul cofano dell'auto ha rotto addirittura anche il parabrezza poi è stata catapultata verso l'asfalto è stata centrata da una Seat Cordoba Station Wagon condotta da un uomo di Marotta di 85 anni che procedeva lungo la statale in direzione di Pesaro ha fatto un bel volo racconta Alberto Boncompagni titolare di Fano Gomme che è proprio lì davanti si è verificato l'incidente intervenuto insieme ai suoi colleghi per prestare i primi soccorsi e poi sul resto del Carlino c'è la data del funerale di Alberto Fiorani è la vittima di quell'incidente stradale che si è verificato sulla statale Nord tra Fosso Segiore e Fano l'uomo procedeva in motocicletta con il figlio nel sedile posteriore quando è andato a sbattere contro un'auto che in quel momento stava compiendo una manovra di svolta sulla sinistra purtroppo per l'uomo che è stato poi ricoverato in l'ambulanza al Torretti di Ancona non c'è stato nulla da fare ebbene i funerali si terranno sabato alle 10 nella chiesa di San Paolo Apostolo al Vallato ci sarà qui anche tutti coloro che lo conoscevano che hanno subito veramente un trauma per quanto accaduto parliamo anche di siccità parliamo di siccità perché c'è una dichiarazione del nuovo presidente dell'Aset Giacomo Mattioli che chiede uno studio di fattibilità per capire l'impatto dei prelievi d'acqua dal foglia l'obiettivo è ridurre quelli del metauro ebbene si valuti l'utilizzo dell'invaso di Mercatale per dare da bere a Pesaro oggi Pesaro beve grazie a gran parte dell'acqua prelevata dal fiume Metauro fiume Metauro che sappiamo anche lui è povero d'acqua in questo periodo è in secca e il fiume non gliela fa a dare da bere a Fano a Pesaro a tutta la comunità a cui è collegato l'acquedotto ebbene se la proposta di Aguzzi andasse avanti si costituisse un nuovo potabilizzatore per quanto riguarda la diga di Mercatale e forse la riserva d'acqua del Metauro potrebbe essere ancora più pingue e quindi aiutare di più la città di Fano a Fano si corre per solidarietà con le Olimpiadi e torna girodonando l'evento si svolge nell'anno dei giochi quelli olimpici come da tradizione ritrovo venerdì alle 18.30 si tratta di un'iniziativa che vede l'associazione Fano Corre Lamberto Tonelli e l'Avis comunale Giuliano Solazzi collaborare insieme all'insegna dello sport del benessere e della solidarietà ebbene è stata presentata vediamo qui questa iniziativa vediamo il presidente di ASE Giuseppe Franchini vediamo la vice sindaca Manocchi che presenta appunto la manifestazione investiti oltre 9 milioni per Coglia Metauro il sindaco replica le critiche di Perlini ex vice sindaco di Saltara noi assenti dai radar così aveva dichiarato Perlini i suoi non sembrano funzionare batti e ribatti tra i due sindaci invece per quanto riguarda Urbino abbiamo una dichiarazione del professor Guido Guidi della Università di Urbino in merito alla proposta di Londè di separare Urbino da Pesaro per quanto riguarda la realizzazione di una provincia autonoma ebbene ecco come si potrebbe fare dice Guido Guidi segnalando un percorso burocratico non facile a percorrersi ma che potrebbe potrebbe così portare alla realizzazione di questo obiettivo ma insomma è molto sarà molto difficile da raggiungere siamo in conclusione a questo punto possiamo chiudere i giornali darvi come sempre appuntamento a domani alle 7 per le notizie del giorno alle 20.30 nelle TG occhio alla notizia di Fano TV per quanto riguarda le notizie del giorno intanto grazie per l'ascolto e a risentirci grazie a tutti